Ciao Antonio, se non seguo troppo la diretta per poco tempo, seguo i consigli di disco, riuscirò a fare qualcosa? Sì, sì ragazzi, ovviamente, allora, l'abbonamento, a parer mio, oltre che essere un plus rispetto alle live, è anche un modo per seguire consigli senza essere sempre presenti in live, è un modo per supportarci, supportarmi, ed è un modo per avere più consigli e fare più crediti, cioè, non è collegata le due cose, non sono collegate. Web up per tutti, web up per tutti ragazzi, web up per tutti ovviamente, tutti coloro che ne hanno diritto. Buonasera David, ben trovato. Come sai che c'è stata l'alluvione da te, intanto grazie per l'interesse, per fortuna l'alluvione è passata, a 15-20 km da dove sto io, Pano è rimasta intatta, la zona è stata colpita più interna e un po' più a sud, ho amici che sono stati colpiti dalla zona, cioè che abitano nella zona colpita. Quest'anno mi hai fatto costruire una squadra talmente forte che mi sono ammazzati 5 milioni per la prima volta, ho giocato anche ad agosto. Questo è un messaggio che mi salvo. È un messaggio che mi salvo. Ringrazio Angelone per il Prime, Matte0604 e BGT Fede, grazie ragazzi, e ricordatevi di iscrivervi in chat, punto stiamativo Discord. Datemi 10 secondi cacciando l'entiratore. Noi poveracci, me, si va in giro ancora col ventilatore nel 2022. Per FIFA 22 mi è stato bloccato il mercato, come devo fare per FIFA 23? Devi giocare, devi giocare e aver pazienza. Come faccio ad entrare nel canale Discord? Andreaie, ciao! Prima cosa, devi essere abbonato, vedo che sei utente Prime, perché utente Prime è gratuito. Dopodiché basta che colleghi Twitch con Discord e accedi. Sto facendo le liste con le tue guide e mi stimoli molto. Ottimo David, sono contento che ti siano utili le guide, perché secondo me molti dei sub le snobbano. A parer mio, le guide che ho pubblicato oggi, due di tre sono veramente fondamentali e vi possono veramente aiutare tanto nell'imparare, nell'apprendere nozioni. Per fare accesso a WebApp basta entrare con il credenziale di FIFA 22. Corretto, corretto. Dai Lucio, faccio i fasti crediti tutti con te. Oh, manca poco, eh? Manca poco, perché è domani il rilascio della WebApp. Giallumassi, grazie per il Prime. Pronti, nati, pronti per fare milioni, ragazzi. C'ho scritto qua, milioni. E il Corriere, ragazzi, sapete, le live di sti giorni, più tardi, sono utili al Corriere, perché anziché lavorare a quest'ora, lui a quest'ora è a casa, a guardare sullo smartphone noi che facciamo compravendita. Sai se su WebApp domani si possono acquistare i FIFA Points o robustare un po' la compravendita? Non te lo so dire con certezza. C'è la possibilità che si possano acquistare, ma non è certo. C'è chi dice di sì, chi dice di no. Io mi auguro di no, onestamente. Però, quest'anno era possibile per utenti PC. Vediamo se su FIFA 23 sarà possibile farlo anche per utenti PlayStation e Xbox. Gabriel James, ciao! Domani un allenamento finisco alle 19, fa niente? Fa niente. Tanto considera che la WebApp dovrebbe uscire fra le 18 e le 19, presumo. Più 19, secondo me. Perché dovrebbe essere contestualmente al rilascio del Team of the Week 1. E comunque mi troverai in live. Io dalle 17, barra 17, 30 sarò qua. Aspettiamo insieme il lancio della WebApp. Apriamo assieme la WebApp. Bestemmiamo insieme contro i server, sapendo che ci sarà problemi di accesso iniziali. Però, saremo qua. Domani tutti col turbante. Non domani, da domani. Io mi immagino già, giovedì, passare tipo 8 ore su WebApp. Ciao Johnny Testi, grazie per l'abbonamento. Luna Ross, grazie mille. Va benissimo Luna, ci sta, giusto. Prima il dovere, poi il piacere. Ricordatevi di scrivere punto schermativo Discord in chat. Ciao Fabri, buonasera. Come va? Sei pronto anche te in live domani per il lancio? Quando sono i giorni in cui in generale tutto il mercato si abbassa e quali in cui si alza? Mi ricordo che la domenica si abbassava e il mercato si rialzava un pelo. Allora, guarda. Basiamoci sulle prime due settimane. Le prime due settimane ci sarà un calo di prezzo il 27, per poi rialzarsi. Un calo di prezzo, probabilmente il 30, per rilascio standard, rilascio once to watch e poi rialzo. Ovviamente parlo di card in meta, eh. Ok? Poi dopodiché si baserà su premi e non premi. Quindi domenica tendenzialmente un po' di calo. Poi lieve rialzo per qualifiche e via dicendo. Per cui tendenzialmente sarà questo l'andamento. Sono sicuro che domani non entreremo. Ciao Cristian, ben trovato. Più guardo la carta di bala più impazzisco. È bella, guarda. Sono onesto. Il design con la carta della Roma, a parer mio, è la più bella. Aspetta che te ne faccio vedere altre. Me ne è rimaste poche, perché alcune le ho regalate a conoscenti, eccetera. Questo è il design dell'Inter. Che comunque sia, è molto molto bello. Quello della Juve credo sia quello che faccia un po' più cagare. Ma quello della Roma è bello. Sarà i colori arancio, stavano proprio bene, stavano. Stavano proprio, 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 proprio bene. Ciao Davide Cola, ben trovato. Ciao Stappa, grazie per i Prime, ben trovato. Consiglio di non fare gli SBC iniziali fino al 27? Allora no, non è questione di non farle fino al 27. È questione di non farle subito. Ok? Semplicemente perché all'inizio i crediti che abbiamo sono pochi. E non vanno, secondo me, sprecati per tentare la sculata nell'SBC. Poi, se dopo due giorni già hai un buon budget, ben venga a fare l'SBC. La squadra si fa il 27? Assolutamente no, ragazzi. Assolutamente no. Assolutamente no. Allora, queste card qua che vedete, ragazzi, le potete trovare sul nostro shop. Cardsplus.it. Realizziamo card foot personalizzate, tipo quella che vedete qua, mia. Tipo, questa me l'ha fatta nella squadra in cui gioco io abitualmente. Ti vedete che sono io? Guarda che stats. Altro che Gullit Gang. Mazza, uh. Dove si possa mandare tra le risposte? Se ho Prime mi devo abbonare comunque al canale, come devo fare? Andrea, basta che scrivi in chat. Punto schiamativo Prime. Ti esce il link. Clicchi lì. Ti abboni gratuitamente con Prime. E poi accedi al Discord. Karmath, grazie per l'abbonamento. Best trader in the world. Grande Lucio. Grande Karmath, grazie mille. Don Squillo. Buon FIFA 23 a tutti. Anche a te. In che squadra giochi, Lucio? Prendo l'aereo da vedere. Ormai squadre amatoriali. Squadre amatoriali. Dalla mia città. Cristian. I FIFA Points dell'Ultimate Edition. consigli di spenderli subito a aspettare i once to watch. Spendeteli subito, ragazzi. Non ha senso, secondo me, attendere gli once to watch. Per quale motivo? Perché gli once to watch non escono nei pack. Se uscissero, vi scappano fuori quelli da 10k. Ma nel frattempo, tutte le card oro che avreste potuto trovare, si sono già deprezzate. Da domani si può fare comprovento con le feed? Da domani no, probabilmente da giovedì. Dovete dare tempo a Footbin di aggiornarsi, ok? Per l'SBC. Volevo chiedere se dovessimo, nelle primissime ore di guada, per raggiungere i 100-100k, su quali card andrà a fare flipping? Sulle card economiche da gameplay. Poi ve ne parlerò in questi giorni. Le vedremo assieme e ve ne parlerò anche in Discord. I FIFA Points della Ultimate vanno spagnare subito? Sì, il mio consiglio è il 27, che è il giorno del rilascio della Ultimate. Nel momento in cui riceviamo i FIFA Points, li spendiamo in pack da 7k e mezzo. Per capire se una carta è fodder, la capiamo dalle stats o anche da altro. Allora, le carte fodder inizialmente avranno prezzi bassissimi. Quindi già te ne accorgi, perché è una card che non costa un cazzo. Poi te ne accorgi anche perché un ipotetico 88 fodder ha un prezzo uguale a tanti altri 88 fodder, ok? E poi te ne accorgi perché è una card che a livello di stats non è interessante. Giovedì usciranno gli incontri principali? Direi di sì. Se non ricordo male, l'anno scorso uscirono già gli incontri principali al secondo giorno di web app. Kalulu in tutte le starter, anche se costerà molto, può fare il TD e il TS. Non credo costerà tanto, perché è una carta molto molto comune, molto spacchettabile. La domanda della web app non è possibile shoppare per nessuno. Questa è un'incognita. Non si sa se sarà possibile shoppare o meno. La web app sarà disponibile probabilmente, io direi, tra le 18 e le 19, ma credo tra le 19. Andrea, grazie per il Prime. Vedo che ora sei riuscito. Scrivi in chat.scamativo Discord per accedere al canale abbonati. Intanto saluto tutti i nuovi spettatori, ragazzi. Siamo oltre 100 oggi, eh? Oltre 100, dai. Vi ricordo per tutti che domani, dalle 5, 5 e mezza circa, sarò in live. E passiamo assieme il lancio della web app. Quindi faremo i primissimi movimenti da fare per ottimizzare i nostri crediti. Davide Cola, ciao. Ti ho risposto, ti ho risposto. Carte gameplay economiche, utili agli starter team. Si può fare il pre-download dell'ultima edizione PS5? No, ancora no, Simone. Per utenti Play 4 e Play 5 sarà possibile scaricare, quindi fare il preload del gioco a partire dal 25, se non vado errato. Giorno migliore per fare la squadra? Secondo te dipende, dipende, da che tipo di squadra devi fare. Ad esempio, se devi fare una squadra da 200, 300k o meno, il momento migliore è aspettare. Aspettare, aspettare anche metà ottobre. Gameplay economica, specie economiche, nazioni top? Esatto, principalmente sì. I am Donny. Ciao e grazie per il Prime. Scrivi in chat, punto schiamativo Discord, per accedere al canale. Mi ero scordato di fare la... La storia. Ne faccio una adesso. Ok. Io sono 9 anni che gioco a foot, ma quest'anno è la prima volta che gioco al day one. Sono veramente in difficoltà per i miei giorni, scopo a fare crediti. Angelone. Vedo che sei abbonato, quindi problemi non te ne devi porre. Ti aiuterò io. Vedrai che imparerai anche. Cioè il mio obiettivo, oltre che darvi consigli diretti, è insegnarvi. Ricordati che ogni movimento che io vi consiglierò, ci sarà una spiegazione che vi indica il motivo per il quale andare a fare quel movimento lì. I am Riccardo, da giovedì, quale feed, punto per fare compravendita? Bisogna ragazzi aspettare e vedere quali SBC rilasceranno. Perché potrebbero esserci novità in termini di SBC. Anche per le sfide base avanzate. E il Principe Guazzo. Ciao e bentornato. Bentornato, bentornato, bentornato. Bentornato. Il database completo lo avremo, ragazzi, con il rilascio della web app. Quindi domani. Per fare mass bidding una volta trovati due giocatori circa da usare, li chiamiamo spesso, se sono buoni questa settimana lo saranno per molto tempo. Allora, se trovate uno, due, tre giocatori con cui fare trading, non dovete cambiare. Dovete continuare a fare con quelli. Fino a che non avete un budget tale da riempire la lista di trasferimenti, avere ancora credito a disposizione e quindi dover necessariamente cambiare carte per massimizzare il vostro budget. Domani web app intorno alle 19 martedì probabilmente. Noi dalle 17.30 circa saremo qua in live. Ciao Giulio, bentrovato, ciao Ago. Certo, ragazzi, qua avete consigli per qualsiasi, qualsiasi console abbiate. È chiaro che se siete utenti PlayStation e Xbox ci sarà un prezzo unico. Per quanto riguarda PC avrete un prezzo a parte, ma io do sempre consigli per tutte le console. Davide Eisenberg, ciao. Probabilmente fra le 18 e le 19. Molto più possibile le 19 che le 18. Per riempire la lista di trasferimenti dici di fare 50 offerte e di coprire 50. Io dico di fare o aste o sniping, come preferisci. La soluzione migliore è riempire i 100 slot della lista di trasferimenti. Buonasera Noiro. Visto che il gioco è molto diverso dagli altri anni, giocherai? Sicuramente qualche partita la proverò, ma non ci contare. Tra l'altro ho appena comprato un gioco nuovo da provare, quindi difficilmente mi dedicherò a foot. Ori eSport ti ho mandato lo SS su Telegram. Non so cos'è lo SS. Adesso sto in live. Quando finisco, quando finisco, do un'occhiata. Se domani mi dovesse collegare alla web app, molto dopo le 19 e le 22, potrei perdermi due opportunità? No, assolutamente no. Cambia ben poco. A meno che non dovessi fare grosse sculate nei pacchi iniziali, direi di no. Ti seguo da più di un anno, Vinci, ma per questo inizio FIVA voglio provare a farla seriamente. Ho già provato la SAP da altri canali, ma nessuno ha meditato realmente. Allora, io non so come lavorano gli altri, per cui non mi permetto mai di giudicare gli altri. Io ti posso dire che con me, con noi, avrai sicuramente una grossa mano, ok? Perché io ci tengo a dare consigli diretti. Quindi io, da parte mia, vedrai i nomi di giocatori, prezzi, motivi di acquisto, tempistiche di rivendita, ok? Eccetera, eccetera, eccetera. Ti consiglio di provare un mese e poi valuti tu. Ecco, questa è... hai fatto bene, secondo me. Vinci, grazie per il Prime. Prova un mese e vedi come ti trovi. Poi, tra qualche settimana, mi dirai, oh guarda, Lucio, mi sono trovato male. Dirò, mi dispiace, magari ti chiederò cosa non ti ha andato bene. Oppure mi dirai, oh mi sono proprio trovato bene, per cui ben venga. Ciao Valerio, grazie anche te per l'abbonamento. Scrivete in chat ora, punto esclamativo Discord, per accedere al canale. Come faccio ad abbonarmi dal cell? I found me. Allora, la cellulare... Aspettate che te lo faccio vedere. La cellulare, appena vai su Twitch, vedi che c'era scritta da me... Vaffan, Cubis. Vabbè, da me c'era la scritta regala un abbonamento, di qua nel lato. Perché sono già abbonato, ok? Essendo il nostro canale. Lì hai un pulsante con scritto iscriviti, oppure abbonati. Clicchi lì e puoi abbonarti. Oppure scrivendo punto esclamativo Prime. La web app sarà rilasciata probabilmente tra le 18 e le 19. Più probabile verso le 19. Grazie Vinci, grazie mille. Quindi domani, se non dovessimo sculare con i pack, vendiamo quasi tutto subito. O anche per le carte semi-gameplay, aspettiamo qualche giorno che il prezzo salga. Allora, le carte semi-gameplay dipende. Dipende da chi sia questo semi-gameplay. Dipende da quanto costa. Per che comunque sia, se io trovassi un semi-gameplay da 15-20k, probabilmente lo venderei perché quei 15-20k riesco a farne diventare 50-100 magari in 1-2 giorni, capito? Flexol, appena mi libero a sub da un canale di Formula 1, mi troverai subito qua. Grazie Flexol. FIFA90, grazie per il Prime. Scrivi in chat punto esclamativo Discord. Portale da accedere al canale. Lucio, se trovi un top tipo Vinicius, Neymar, Ronaldo, Son Mané, vendo subito, aspetto qualche giorno. Allora, quelle sono card che al 99% salgono di prezzo andando avanti nel gioco. Quindi fino a metà ottobre salgono di prezzo. Il discorso qual è? È che quando trovi una card da mezzo milione, un milione, ci sono, diciamo, vari requisiti che mi pongo. Cioè, trovi una card da un milione, magari può aver senso venderla per godermi un po' di credit iniziali, fare compravendita. Quindi capisci bene che magari c'è modo e modo di gestire la carta, ecco. Davide Heisenberg, grazie per il Prime. Ben trovato. Quando sarà disponibile FIFA 23 per i Gamer, Streamer, Collab? Bella domanda. Probabilmente tra domani e venerdì, credo. È normale che ho perduto il gioco da FIFA 22, ho pagato, non lo fa scaricare. Se sei utente PlayStation, è normale, sì. Devi aspettare il 25. Ciao Riccardo, ben trovato. Ciao Carcio, grazie per il Prime. Scrivi in chat, punto schiamativo Discord. Nel sub 2, metterai delle dritte dedicate durante prima rispetto al canale sub normale? Big Ben. Allora, il sub livello 2 ha il vantaggio di avere una chat, ok, oltre che il canale. Cioè, con Prime o con la sub livello 1 accedete al canale dove io spammo messaggi, ma voi non potete rispondere. Poi avete a disposizione una chat aperta solo tra di voi, dove io non vengo a messaggiare. Per gli abbonati livello 2, livello 3, potete, avete a disposizione una chat, quindi un gruppo con poche persone, perché siamo in pochi, dove potete farmi domande e io rispondo, poi capita a volte che ci sono anche messaggi, messaggi, investimenti, lampo, che arrivano solo lì perché se li fai in due minuti li fai in tempo oppure no. Però, tendenzialmente, il livello 2 serve per avere una chat. Su Xbox, se non sbaglio, è già disponibile il download anticipato, ragazzi, eh. Fede, da Ierucci oggi ho fatto l'iscrizione al gruppo V, bella lì, grande, vedrai che non te ne pentirai. Non capisco una cosa, per feedback su PC esiste la web app, si recupera l'account feedback su la Play? Allora, la web app esiste per PC, per PlayStation, per Xbox, per Google Stadia, per tutto, ok? Se tu eri utente PlayStation e adesso sei utente PC, nel momento in cui farai il primo accesso alla web app, avrai l'account PlayStation. Per poter accedere alla web app del PC, devi aspettare che esca FIFA 23 per PC e che tu crei il tuo primo club. Pensi che le carte a cambio ruolo possono avere buoni margini di compravendita o credi che saranno droppate talmente tanto che sarà impossibile da fare qualcosa? Credo che ci sarà la possibilità di farci compravendita, secondo me. Secondo me sì, perché saranno card molto, 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 molto usate. Molto più degli stili intesa, secondo me. Sì, vince, è normale. È normale. Perché tendenzialmente devi aspettare che Twitch cataloghi che tu sia abbonato, che Discord rilevi che tu sia abbonato e che il collegamento funzioni. Quindi ci sta. Puoi provare anche tra dieci minuti e magari funziona già. Ciao Lucio, farai un consiglio per fare una rosa argento per le sfide di sulle carte argento? Assolutamente, assolutamente. Nelle prime settimane dal rilascio delle card argento negli obiettivi, le card argento più usate salgono di prezzo. Quindi sì. Se è vostra intenzione completare gli obiettivi degli argentoni, assolutamente sì. Tony Rubio. Quando sarà possibile scaricare FIFA su PlayStation? Probabilmente dal 25. Il pupino. Io abbonamento Prime. Se vuoi fare abbonamento livello 2, come faccio? Allora, l'abbonamento livello 2 è solo pagamento, ragazzi. Quindi non potete farlo con Prime. Potete fare l'abbonamento livello 2 andando nel nostro canale, cliccando abbonati, oppure scrivendo in chat punto schermativo sub e cliccando nel link. Sì a Milano. Ciao Lucio, ho il mercato chiuso da WebUpside perché ci sono varie possibilità, varie cause. Le più banali sono semplicemente che hai un club in foot da poco tempo, quindi non hai accesso al mercato da WebUp, oppure hai ricevuto sanzioni in FIFA 22. Comunque sia, in FIFA 23 si riazzererà il tuo club, quindi dovrai giocare per sbloccare l'accesso. Ho messo una storia dove qualcuno già giocava a FIFA 23. Come hanno fatto? Eh ragazzi, cioè, banalmente, se io fossi titolare di un GameStop e mi fossero già arrivate le copie di FIFA 23, potenzialmente posso giocare. Ok. Finings, ciao. Ho PS4, al momento non ho intenzione di passare al next gen. Ho un buon PC gaming, mi consigli di prenderti da PS4, in presenza in futura ho PC. PC, se giochi solo a foot, no. Perché il mercato PC è talmente inflazionato che non ti divertirai, secondo me. Se non ho il mercato sbloccato da web app FIFA 22, ho già giocato, tutto domani troverò ancora bloccato? Sì, sarà ancora bloccato. Dovrai aspettare il rilascio del gioco e iniziare a giocare un po'. Dopodiché ti si sbloccherà. Big Bang, quest'anno che il mercato è cross-platform, ti aspetti un cambio sostanziale di qualche aspetto? Onestamente no. Non mi aspetto nulla di diverso rispetto all'anno scorso, ti direi. I found me! Ciao e grazie per il Prime! Scrivi in chat punto esclamativo Discord, in modo tale da accedere al canale abbonati. Esatto, sei abbonato, grazie. Graffo! Ma te Lucio che lavoro fai? Ah, io faccio un sacco di robe. Vabbè, streamer e trader food, primis. Mi occupo di realizzazione siti web e commerce, mi occupo della gestione dei social media e di attività campagne, social, google per alcune attività della mia zona. Ho dei miei e-commerce, mi occupo di vendita di pezzi di collezionismo. Quindi, faccio un sacco di roba. Ciao Alessandro Dell'Anna! Grazie a te! Andrea, ciao! Ho una domanda, anche se non ho ancora preordinato il gioco, dopo posso comunque giocare da web app? Sì, puoi utilizzare la web app anche senza essere in possesso o aver preordinato FIFA 23 fino al 17 di ottobre. Ho l'account da otto mesi, giocato un sacco e ancora bloccato. Purtroppo, ragazzi, non c'è una tempistica reale, ufficiale, per lo sblocco. Chiaro che otto mesi sono tanti, eh? Ti direi che teoricamente ti sarebbe già dovuto essere sbloccato, però, in realtà, non è così. Blackstone, viene a fare un'azione a scuola. Guarda, a me piacerebbe un sacco fare lezioni, fare congressi, tenere conferenze, eccetera. Mi è capitato di farne tempo addietro. Ho mollato a marzo, ho provato di accedere per fare due partite e non potevo vedere nessuno. Ciao Matti! Ho rinnovato l'abbonamento. Grazie mille. Grazie, 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 grazie. Salvuccio! Ciao Lucio, sei di Palermo? No! Non sono di Palermo. Sono di Fano, nelle Marche. Ho collaborato per anni con il Palermo. Vediamo se anche quest'anno troveremo una soluzione per rinnovare. però mi piacerebbe presto passare a Palermo. Ma non ci sono mai stato ancora. Blood Tia! Ciao! Anch'io ho cambiato piattaforma ma non ci avevo pensato. Devo aspettare per Cali Club. Eh, purtroppo sì, ragazzi. Se cambiate piattaforma passando da una console a un'altra attenzione, non stessa console, cioè non da Xbox a Xbox, non da PS4 a PS5, ma se cambiate console da PS a PC, da PC a Xbox, da Xbox a PS o viceversa, allora per poter avere l'accesso anticipato a web app dovrete aspettare di creare un club in foot. Perché l'accesso che avrete domani sarà per il vostro club vecchio. Dovrei preordinare FIFA. Che faccio? Lo prendo per Xbox One o da PC? Ho un fisso. Il mio consiglio è di prenderlo per Xbox. perché se giochi a foot su PC, purtroppo, su PC, purtroppo, il mercato è talmente inflazionato dal numero basso di utenza online. Hai fatto qualche università studiato economia? No, non ho fatto università. Maggior parte autodidatta e poi ho fatto una serie di corsi privati. Uno della regione, alcuni con aziende private, eccetera, eccetera. Se ho già sbloccato la web app sul 22, nuova console ad agosto. Dovresti averlo sbloccato. Se ce l'avete già sbloccato sul 22, ce l'avrei sbloccato anche sul 23. Un abbraccio a tutti i marchigiani, sono stato nelle marche mangiando cinghiale al suo, che dire, per le dibattezze, scusami per la... vero, vero, per le dibattezze qua ce n'è da paura. Veramente tante. Ho giocato in FIFA 22, avrò problemi per la web app. Allora ragazzi, se avete avuto accesso a web app in FIFA 22, lo avrete anche in FIFA 23. Per questo motivo sono passato da PC a serie S, hai fatto bene. Mariano, il mercato non è modificato? Allora, il mercato è unificato per PlayStation e Xbox e Google Stadia. Ma non c'entra niente con il discorso Club. Se voi passate da PlayStation a Xbox o da Xbox a PlayStation, cambiate console. Cambiando console, non siete in possesso di un club. Non essendo in possesso di un club, non avete diritto all'accesso anticipato. Graffo, ciao, perdonami Lucio, ho comprato FIFA Ultimate per PS4. Posso scaricarlo al 27, ma è normale che non vedo un raccolto, ancora non vedo un'unione in renta al gioco. Ti direi di sì. Io non ci ho guardato, ma probabilmente è da me lo stesso. Però potrai scaricarlo, credo, dal 25. Gorgator. La Companion 22 a me funziona, è normale? Probabilmente sì. Non ci ho guardato io onestamente se funzionava da me. Adesso ci provo a accedere. Comunque sì, la Companion si aggiornerà il giovedì. Giovedì si aggiornerà la Companion e ti darà accesso alla Companion di FIFA 23. Vediamo, provo a accedere, vediamo se va anche da me ancora. Eh sì, funziona anche da me. La Companion funziona ancora. Giusto per dire qualche carta. Altra domanda, non ricordo, viene aggiornata una nuova app? No, no, viene aggiornata. Sarà disponibile un aggiornamento sul Play Store, sull'iOS, sull'Apple Store, eccetera, eccetera. Tiffany, ciao! Lucio, si potrà anche disattivare il mercato unico e se sì, cosa consigli fare? Il mercato unico non è un'opzione, cioè è così e così rimane. Potrai disattivare il crossplay. Per il discorso disattivazione o meno del crossplay, onestamente non saprei cosa dirti. Non è una materia che mi è mai interessata, quindi non saprei onestamente cosa consigliarti. Domani con la Web App cosa conviene comprare? ti consiglio di guardare il tutorial che io ho fatto sul mio canale YouTube per avere nozioni oppure di seguire domani in live il mio accesso a la Web App per fare le cose insieme. Mariano Ripa, ciao! Anche io sono delle Marche di Porto San Giorgio. Io sono di Fano. Io sono di Fano. Quappo, ciao e grazie per l'abbonamento, grazie mille. Ti basta scrivere ora in chat punto scammativo Discord per accedere al canale abbonati. Luca, ieri ho contattato EA per capire se potessero sbloccare la Web App ma ovviamente loro non possono mettere mani. Con questi soldi purtroppo ragazzi il discorso sblocco Web App non ha niente, 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 niente a che vedere con con come si chiama con l'assistenza EA non vi possono aiutare purtroppo. Allora ho aggiornato un attimo un command è diverso il mercato console quello da PC sì ragazzi gli utenti PC hanno un mercato a parte il drop rate con il mercato unificato sarà più basso sarà identico all'anno scorso a parer mio domanda forse stupida se non avessi ancora perdonato FIFA posso comunque accedere la Web sì puoi accedervi fino al 17 ottobre senza essere in possesso di una copia del gioco si può collegare l'account di FIFA da play a pc no se sei utente pc sei utente pc sei utente play sei utente play non c'è non c'è collegamento ciao Simone a domani grazie per essere passato quindi da quando la web app a che ora intendo domani tendenzialmente tra le 18 e le 19 molto più probabile verso le 19 ok considerate però che sarò in live dalle ore 17 barra 17.30 circa per cui mi troverete già qua pronto 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 ad aspettarvi ad aspettare il rilascio da web app aspettative tue per quest'anno che intendi? cioè aspettative aspettative mie in termini di che cosa? ho già discord peraltro devo comunque attendere un'ora guapo puoi già provare se vedi che già nella sezione collegamenti trovi il canale abbonati allora già puoi entrare se invece non lo vedi devi semplicemente aspettare un'oretta Mariano meglio play 5 o xbox serie x? allora onestamente non posso dirti la mia perché non ho xbox serie x io ho play 5 e quello che ti posso dire è che se non avessi interessi in termini di esclusive probabilmente probabilmente sceglierei xbox per il discorso del game pass perché sono uno a cui piace giocare tanti giochi durante l'anno e non fossilizzare nessun gioco soltanto se vogliamo parlare di esclusive eccetto Halo che è il mio gioco preferito andrei assolutamente su playstation però paragone tra le due non te lo posso sottopare io quanti crediti il mio obiettivo è sempre quello di migliorare la stagione precedente quindi se quest'anno sono arrivato a 150 milioni prossimo anno voglio arrivare a 200 domani quando si apre la web app avremo dei crediti a disposizione no avrai solo i crediti che fai attraverso il la vendita delle card dei pack benvenuto nessuno ti regala nulla purtroppo ragazzi sono entrato dove trovi consigli di sua compra vendita I found me trovi all'interno del server tre canali uno è un canale dove puoi solo leggere i miei messaggi uno trovi le guide che ho pubblicato in giornata e un altro sono le chat con gli altri utenti sicuro domani 18 crash totale iniziamo ad entrare solo web app dalle 20 in poi ci andrà bene è possibile anche gli anni scorsi era così cosa consiglio di fare con i 4600 FIFA points iniziali consiglio di aprire più possibile pack da 7k e mezzo consigli il 27 per iniziare bene il gioco trascendo commenti ti chiedo proprio a quale malità giocare division squad oppure malità nuova ti direi di farne un po' tutte un po' tutte per ottenere i premi l'obiettivo è arrivare ad avere più premi possibili durante la settimana bisognerà capire quanto saranno interessanti i premi delle foot moments della nuova tipologia di modalità di gioco e poi perché no cominciare anche con quella quanti saranno i pack benvenuto e di che tipo saranno pack di merda aspettatevi pack di merda questo è poco ma sicuro saranno pochi dipende dalla vostra storicità dell'account possono essere 2 come 3 come 4 come 5 non credo ce ne siano di più poi più storicità avete e più belli saranno gli account come aprire i pack con i 4 esatto i pack i pack sono stagionali quelli della foot moments no se non sbaglio corgedor sbloccando cioè completando le modalità foot moments otteniamo delle monete monete che possiamo utilizzare per aprire pacchetti o riscattare premi ciao mar6810 grazie per l'abbonamento per i 3 mesi grazie mille scrivi in chat punto esclamativo discord per accedere al canale abbonati corgedor ti ricordo anche se sei bravino nei rivals giocare perché sarà in divisione ogni soglia c'è un premio di credit che sono molto sì vero trovi allora già soltanto giocando le rivals otteniamo pack per il passaggio di divisione poi magari vi giocate le squad battles per avere i premi domenica giocate le foot moments per ottenere i primi premi di questa nuova modalità quindi cercherei di non snobbare nell'una nell'altro se scarico adesso su FIFA 22 dentro su webcompanion potrò avere accesso a webapp no ragazzi no 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 non funziona così per avere accesso anticipato alla webapp di FIFA 23 è necessario aver creato un club in FIFA 22 prima del 1 agosto e aver giocato a foot in questo periodo di tempo quindi non serve a nulla scaricare FIFA 22 in questo momento mazzaro si sono fatte già le 8 e mezza e io ho fame come funzionerà l'intesa intendi l'intesa nelle sbc o intendi l'intesa nel nel club diciamo nel club è tutto nuovo ma è molto banale tre punti intesa per ogni giocatore un massimo di 33 in squadra e l'intesa è data dai collegamenti non diretti ma all'interno della rosa degli 11 torari in azione campionato nazione campionato e club trovi anche per quello un tutorial o un tutorial una spiegazione sul mio canale youtube ciao black soul ci vediamo domani tra poco vado anch'io con fame nella rosa mariano te l'ho appena appena spiegato figurati alex figurati se la ultimate esce martedì 27 è giusto pensare di giocare subitissimo nei rivals per sfruttare le slot di prima azione di gioco di mattina assolutamente sì assolutamente sì assolutamente sì assolutamente